Si intitola Women for Women Against Violence e tradotto in italiano significa Donna per Donna o Donne per Donne contro la Violenza ed è un evento televisivo che va in onda oggi 25 novembre 2021 in occasione proprio della giornata mondiale contro la violenza sulle donne alle ore 17 di oggi pomeriggio ovviamente Rai 2 manderai non da questo evento così importante una Kermes ideata o meglio studiata pensata proprio dalle donne per le donne contro la violenza di genere che purtroppo spesso e volentieri le va a colpire questa Kermes TV viene condotta da Livio Beshir e da Rianna Ciampoli la regia è di Antonio Centromani tutto inizia da parte delle donne che raccontano attraverso le cicatrici del loro corpo quello che vivono, cicatrici però anche che si trovano nella loro anima ma anche donne infekite da un tumore, vittime di un uomo e c'è anche il Kaomila World ispirato al fiore che va a curare le piante malate un evento insomma televisivo importante quello di oggi che va a rivolgersi a tutte quelle donne che purtroppo ancora oggi hanno paura a esporsi e purtroppo ancora oggi sono purtroppo vittime di violenza fisica ma anche violenza psicologica nonché verbale da parte dei loro mariti, fidanzati e o compagni quindi partner insomma basta alla violenza sulle donne oggi è un grado d'appello quello che ricorre ogni 25 novembre che si rispetti una giornata non italiana ma una giornata mondiale di tutto il nostro pianeta contro la violenza sulle donne violenza di genere il video termina qua grazie a tutti gli utenti di Youtube per la visione e per l'ascolto iscrivetevi, commentate ciao a tutti e al prossimo video ciao a tutti